Colgo l'occasione per ringraziare ufficialmente le professoresse Donato, Faedo e Maffei per averci dato la possibilità di presentare Book of Source, Org, qui in questa sede. Il mio ringraziamento è tanto più sentito in quanto sono consapevole che il contenuto del nostro database è molto eccentrico ai database che abbiamo visto fino adesso. Rappresento un gruppo molto eterogeneo, non so se si vede, di persone che hanno tutte una formazione diversa. Il principal investigator, cioè la persona che ha vinto il grant, Maurizio Ghilardi, lavoro con Costanza Giannaccini, Alexander Aufderheide, Ingrid Zitta, Susanna Martinelli, Alessio Piccioli e Romeo Zittarosa. Sono persone che hanno delle formazioni che vanno dalla germanista allo storico dell'arte, la filologa e poi abbiamo il supporto di due informatici. È un privilegio molto grosso. Burkhardt Suoth è una digital library, io volevo farvi vedere questo, che stiamo realizzando grazie al progetto The European Correspondence to Jakob Burkhardt, un progetto, come abbiamo già sentito, finanziato dal European Research Council ed è ospitato alla Scuola Normale Superiore. Il progetto è finalizzato a stabilire un'edizione critica delle lettere A. Jakob Burkhardt. Come dice il nome stesso del database, si tratta di un portale open access che si basa su un sistema di linked data. L'edizione è ideata come una digital library completa con le lettere A. Jakob Burkhardt, il carteccio dello studioso svizzero, perché forse saprete che le lettere A. Jakob Burkhardt sono state pubblicate in dieci volume a stampa. In tal modo pensiamo che si ricostruisca una delle più importanti corrispondenze europee del XIX secolo, che prende gli anni che vanno dal 1842 fino al 1896. Ci troviamo di fronte a un periodo storico importante in cui l'Europa è scossa da conflitti sociali e politici. Sono anni in cui emerge il concetto moderno della democrazia accompagnato dalla formazione di due stati nazionali. Scusate, sono totalmente disstrattata. Non solo, nell'ambito dell'educazione civile, gli ideali neo-umanisti sono messi in discussione dalla nascente cultura industriale. Di particolare interesse per il nostro contesto si rivela la formazione della storia dell'arte come disciplina autonoma che si emancipa dall'archeologia e dall'antiquaria. Si accende una vasta discussione sui metodi e sui fini di una storia dell'arte autonoma. Si pensi, ad esempio, alla rivista tedesca Kunstblatt. Essi costituiscono le prime cattedre universitarie. È degno di nota che Jakob Bockhardt stesso, nella sua prolusione che fece nel 1874 a Basilea, cerca di definire l'ambito e lo scopo dell'insegnamento universitario della storia dell'arte. Infatti, aveva intitolato la sua relazione «Über di kunstgeschichte als gegenstand eines akademischen Lehrstuhls». Molto sommariamente, sono queste le circostanze storico-culturale in cui si colloca l'epistolario di Jakob Bockhardt. Simile contesto si delinea e si ricostruisce sotto i nostri occhi grazie alle singole lettere che provengono da ambienti più svariati. In base alla corrispondenza, si delinea però già adesso un primo fatto. Buockhardt, a dispetto della sua ricezione postuma, era considerato dai suoi contemporanei uno storico dell'arte e non come invece la prima ricezione era considerato uno storico o un filosofo addirittura, il che lo farebbe girare nella tomba, come si dice in tedesco. Tra i corrispondenti si incontrano molti nomi illustri, ma pure emissive di studenti che chiedono magari una firma per aver frequentato il corso universitario. È chiaro che abbiamo tutta la banda e il corpus, cioè un'edizione critica, non può scegliere solo le lettere considerate interessanti. Tra i corrispondenti che oggi sono dimenticati, che però possono, le cui lettere però possono svelare aspetti molto interessanti, figura per esempio una Johan Matthias Commeta, un conoscitore mercante d'arte hamburghese che passa i suoi ultimi anni in Italia. Scrivendo a Burkhart, elli fornisce nella seconda metà degli anni Cinquanta dei rendiconti dei suoi viaggi alla scoperta di opere d'arte. Con l'intento di correggere e di ampliare la recente pubblicazione dello studioso basilese Ciccerone, Commeta li invia delle lunghe liste di opere d'arte che elli ha censito, diciamo così, in chiese, monasteri, collezioni private e che oggi, nei migliori casi, hanno un'ubicazione diversa, nei casi peggiori non sono più rintracciabili. Illustro brevemente la piattaforma. Burkhart Wars è, come ho già detto, concepita come una digital library, il cui scopo principale è mettere a disposizione le fonti, ossia le lettere. Il corpus del portale sarà, utilizzo il futuro perché è un work in progress, e siamo in questo momento più o meno a metà con l'acquisizione delle lettere, con il commento siamo ancora all'inizio. Cioè, dicevo che il portale una volta finito continuerà contenderà più o meno lettere di 400 mitenti e contiamo che siano più o meno mille lettere. Le loro emissive, le emissive di questi mitenti, sono state individuate nelle biblioteche e negli archivi europei, nonché in archivi privati, perché una parte si trova a Basilea, ma una parte dispersa, perché nell'Ottocento era l'uso di dare indietro le lettere, o di solito era la famiglia che richiedeva indietro le lettere dopo la scomparsa di un caro. Il progetto va oltre il mero accumulo e la semplice classificazione e gestione dei dati. cioè non è un sito autoreferenziale e chiuso. Esso si basa invece su tre principi che nel loro complesso sono assai innovativi. La piattaforma Booker Source propone testi filologicamente attendibili. Per un'informazione orientativa ogni lettera è accompagnata da un abstract. Uno strumento molto utile che consiste nel corredo fotografico. Forse vi faccio vedere come si vedono molto bene. Cioè la scansione è molto precisa, è molto chiara e si possono si può ingrandire a volontà. Il testimone il manoscritto è descritto secondo un sistema stabilito in base a degli standard filologici sui quali mi soffermi tra poco. Tutti i metadati sono interrelati all'interno della biblioteca stessa e dialogano con altri. Ogni lettera ha un apparato critico e un commento semantico o contenutistico i cui concetti sono indicizzati e dunque collegabili internamente ma sono possibili interrogazioni anche da e con altre piatteforme. Mi soffermo brevemente su queste tre caratteristiche di Burkatsuos. Che cosa intendiamo con un testo filologicamente attendibile? Adottiamo qui i criteri della filologia tradizionale il cui obiettivo principale è l'edizione critica di un manoscritto rendendolo disponibile per ulteriori approfondimenti siano essi letterari linguistici storici o di storia dell'arte. Infatti August Burk riconosce il compito principale della filologia nella conoscenza del conosciuto das Erkennen des Erkanten vale a dire nel rendere conosciuto quello che la mente umana ha prodotto. I manoscritti sono trascritti e collezionati poi viene costituito il testo il quale riceve un accurato e esaustivo apparato filologico infine i testi sono codificati in XML la conversione in HTML avviene solo in fondo dei lavori per un problema di lavoro cioè se no non riusciamo più a intervenire essendo un work in progress come prima ha detto anche Chiara si scoprono sempre errori e in questo modo abbiamo la possibilità di intervenire i criteri di trascrizione e di codifica sono consultabili sul sito visto il genere testuale e la sua funzione in quanto fonte storica e culturale è il testo stesso ad avere la preminenza di conseguenza la piattaforma offre all'utente due forme di presentazione sono queste due che vedete qua sulla sinistra c'è un testo puro corretto e continuato senza notazioni filologici un testo che rispecchia diciamo l'ultima mano del mittente mentre a destra avete l'alternativa che consiste e qui mi scuso perché appunto essendo XML le correzioni che noi abbiamo apportato in base al manoscritto si trovano ancora così nel testo nella versione definitiva ci saranno poi asterite rischi o un altro segno su cui si clicca e uno volendo vede le varianti o le correzioni dell'autore va comunque sottolineato che nemmeno questa versione illustra la mera fotografia del manoscritto ma il risultato di un lavoro ectotico ben preciso la scansione dei manoscritti rende trasparente e intellegibile sia la stesura della lettera la genesi del testo sia gli interventi degli editori qui in questo brano non abbiamo bode di solito scriveva senza intervenire troppo non si autocorreggeva l'ottima risoluzione il fatto che si possono ingrandire come ho già detto facilita chiaramente la letteratura del testo anzi la lettera la scansione spesso risulta più facilmente leggibile rispetto all'originale è superfluo accennare qui a un altro aspetto che ai presenti non sarà certo sfuggito grazie alle scansioni Puocatsuo svolge anche un'azione un'azione di conservazione tutela nei confronti dei documenti perché l'idea è questa che uno può anche lavorare sulla piattaforma senza rendersi a Basilea o a Berlino o Monaco o dove siano le lettere in che cosa consistono i metadati innanzitutto sono descritti tutti gli aspetti fisici della lettera la carta le sue misure lo strumento di scrittura ma si trovano anche i luoghi di stesura i luoghi della partenza e di arrivo alle città di partenza e di arrivo è assegnata la georeferenziazione affinché esse possono essere individuate sulla mappa le città che hanno cambiato nome è stato in seguito ad avvenimenti geopolitici visto che abbiamo tantissimi autori tedeschi e questo fatto avviene abbastanza spesso queste città sono collegate a un sito esterno che documenta i diversi cambiamenti i metadati indicano inoltre il luogo di conservazione dei manoscritti e il suo UOL e forniscono i riferimenti bibliografici di eventuali pubblicazioni precedenti alcune lettere sono state pubblicate in altri luoghi infine attraverso i metadati si ricostruisce la corrispondenza visto che i metadati conferiscono ad ogni lettera il suo stato cioè definiscono se la lettera in questione è una risposta a una lettera di Burkart e allora si trova il rimando alle opere stampate o se l'epistola o se si ha l'epistola a Burkart ha risposta o meno per illustrare la corrispondenza qui abbiamo una parte del timeline perché il sito dispone anche di una timeline che permette di vedere gli apici temporali inoltre abbiamo una mappa dove qui abbiamo fatto solo un piccolo estratto dove si vedono le città emittenti e questo poi appunto diventano si visualizzano si visualizza anche graficamente incrociando poi le date con i concetti delle annotazioni si manifestano chiaramente ulteriori intrecci e passaggi qui vorrei accennare velocemente alle funzioni di ricerca fino adesso abbiamo si può navigare per anno in questo senso intendiamo per anno di della spedizione della lettera per sender per place per place per per luogo scusate intendiamo il luogo di stesura questo è il luogo di riferimento o appunto abbiamo già il map tool su cui si possono fare giochi li chiamo io ma forse sono troppo poco ludica qui abbiamo fatto una piccola ricerca inserendo nello spazio vuoto dove si appunto si possono mettere keywords abbiamo messo leonardo e come si vede solo adesso da questi 400 lettere e senza contare che non abbiamo ancora le annotazioni cioè per cui abbiamo solo i riferimenti espliciti abbiamo già un numero di lettere poi uno clicca su una lettera e si apre qui a destra poi la lettera scelta l'edizione è completata chiaramente da un commento continuotistico e dato il genere testuale ci asteniamo da qualsiasi interpretazione limitando le annotazioni principalmente a indicizzare i luoghi ad identificare le persone le opere d'arte le citazioni e chiaramente anche i riferimenti bibliografici come sanno tutti coloro che hanno utilizzato un'edizione critica il commento è la parte più vulnerabile perché invecchia velocemente tanto più oggi grazie al www la vita delle annotazioni contenutistica si reduce ulteriormente per questo motivo abbiamo cercato una soluzione nuova nel ambito di questo progetto e pensiamo che sia una differenza che per il futuro sia indicativa in questo grazie al nostro tipo di annotazioni l'edizione non sarà più chiusa e autosufficiente si apre verso l'esterno di difatti la piattaforma stabilisce un dialogo con il web universale e cerca di approfittare dal suo contenuto collegando i concetti interni della digital library ad altri siti grazie a una sorta di sintassi infatti ieri se vi ricordate la professoressa Maffei vi ha accennato a questi che si chiamano triples che vedete sopra a destra questi triples rispecchiano più o meno una sintassi più o meno naturale in cui si prende il soggetto viene presa viene preso dal digital library poi abbiamo un predicato che viene suggerito dal tool stesso e di seguito il tool cerca sui siti linkati che nel nostro caso è l'europeana freebase per le persone wikipedia cerca il predicato che poi è l'annotatore che sceglie scusa che sceglie no che sceglie la risposta giusta giusta diciamo così qui appunto abbiamo un esempio anche molto banale con falli se si mette falli come abbiamo visto prima come soggetto come progetto come predicato talks about o is poi mi viene fuori tutta una serie di falli che si trova un falli in america e poi chiaramente tocca a noi scegliere lo stesso la stessa cosa chiaramente si può fare con le persone in questo caso con il ministro villari di cui poi si trova la scheda in ogni caso questo tipo di annotazione non toglie il fatto che abbiamo anche la possibilità di inserire delle annotazioni fatte a mano diciamo così ma come abbiamo sentito anche prima il database ci obbliga di essere molto precisi nelle annotazioni e di dare delle risposte precise a una domanda precisa va da sé che il sistema non sostituisce la ricerca se Pier Paolo Pasolini il biografo di Caterina Sforza che coinvolge Burkart nella sua ricerca iconografica per identificare il ritratto più verosimile della signora di Imola e Forlì rimanda a un dipinto nella pinacoteca di Forlì vanno prima accettati i suoi dati moderni in questo caso il luogo di conservazione è tuttora a Forlì il quadro si trova tuttora alla pinacoteca di Forlì mentre al tempo di Pasolini non l'autore era sconosciuto oggi il dipinto è attribuito a Lorenzo di Credi e la signora rappresentata non viene più individuata come Catarina Sforza mostro un altro esempio per illustrare il vantaggio di una notazione semantica rispetto una semplice indicizzazione sempre Pasolini a proposito delle raffigurazioni di Catarina Sforza scrive il costume qui si riferisce a un dipinto preciso il costume qui rappresentato può essere quello di una donna vissuto tra il 1463 e il 1509 tra la Lombardia Roma Romagna e Firenze a me questo costume sembra posteriore dal 1550 in su ho consultato il Cesare Veccellio il Bonar e sono rimasto più dubbioso di prima chiaramente qui non si tratta cioè sì abbiamo a che fare con due persone ma quello che sì che a Pasolini interessa sono le opere e in questioni e per il Cesare Veccellio è sì è un io non so se l'avete mai visto è un'opera bellissima è un'opera di cui abbiamo abbiamo dato con la scheda l'UOL se avete visto alla biblioteca per cui cliccando lì sul sul sito nostro andiamo subito sulla scheda e appunto è questo quest'opera che Pasolini intende abiti antichi e moderni in tutto il mondo e per l'occhio ci voleva qualcosa per cui ho preso due cioè il frontespizio è una donna ornata non so la ricerca non l'abbiamo fatta ancora fino a questo punto non so se poteva essere questa la signora che lui intendeva per Camille Bonnard chiaramente è la stessa questione rimanda a costume del XIII e XIV e XV secoli extra dei monumenti le più autentiche di peinture e di sculpture con un text escriptivo e historico innovativa rispetto alle edizioni stampate tradizionalmente contenitori di testi statici e immutabili qui abbiamo la possibilità di uno scambio tra editori e lettori è previsto che gli utenti possano segnalare dubbi e perplessità o apportare correzioni al commento anche se siamo ben sconsapevoli di possibili incidenti come quelli elencati ieri dal professor Ampolo certo questo forum cioè questo scambio non è da immaginarsi come un agora dove tutti intervengono liberamente l'intervento è controllato da un login ed è sotto chiaramente i suggerimenti sono sottoposti a una verifica da parte degli editori prima che essi vengano pubblicati sul sito questo questa cornice che abbiamo qui che è stata ideata e stiamo ancora aggiornando strada facendo e che è stata fatta per le lettere a Jacopo Burkart rappresenta nella nostra concezione solo un mattone io ho qui preso per problemi di comodità i filosofi ma rappresenta un mattone per costruire una Repubblic delle lettere tra il sette e ottocento tenendo fermo i criteri filologici cerchiamo una discussione aperta con progetti simili per creare una rete europea perché il progetto si intende appunto come la maglia di una rete molto più vasta di epistolari di contemporanei chiudo citando Burkart il quale attribuisce a un libro il merito di aver preservato molte opere d'arte dalla distruzione mi piacerebbe pensare che una simile funzione nell'ambito del patrimonio culturale possano assumere anche le nostre banche date di cui abbiamo sentito in questi due giorni lui scrive lo leco in tedesco semai se c'è bisogno lo traducco in italien ist auch vieles herrliche seit dem 13. Jahrhundert über die Zeiten des Manierismus und des Barocco hinaus gewiss nur deshalb erhalten geblieben, weil durch einen enormen Glücksfall, der auch hätte ausbleiben können, durch das Dasein und die weite Verbreitung des Vasari jenen Werken, jenen Werken wenigstens diejenige Beachtung gesichert hat, welche das ganz leichtfertige und hochmütige wegschaffen und zerstören hinderte. cioè faccio un riassunto brevissimo cioè Werken attribuisce al fatto che il Vasari che era molto diffuso e il Vasari che cita tutte le opere d'arte grazie al fatto che un'opera d'arte compariva era presente nominato nel Vasari questo fatto impediva o era almeno una barriera per una possibile distruzione vi ringrazio della vostra pazienza e sono aperta per domande grazie ecco davvero bellissimo questo progetto che secondo me unisce degli elementi di grande modernità appunto come le ontologie che sono veramente uno strumento nuovo che ci permette di appunto interagire con altre banche dati con altri mondi utilizzando la logica utilizzando quindi delle aggregazioni nuove e è molto interessante anche secondo me in questo progetto la fusione tra queste nuove tecnologie e un rigore filologico molto importante che quindi consente da un lato di avere una banca dati molto rigorosa dall'altro appunto aperta a molti stimoli aperta veramente mi chiedeva una curiosità volevo sapere se in queste lettere ci sono dei disegni delle immagini e come vengono trattate che tipo di perché è una curiosità che ho sempre avuto mi viene adesso in mente mi vengono in mente le lettere di Wölflin di Heinrich Wölflin il quale manda disegni a Burkhardt grazie alle scansioni chiaramente li abbiamo uno a uno i disegni nel testo fino adesso non so se troviamo un'altra una soluzione migliore perché ripeto è un work in progress non pensiamo di aver trovato ancora la soluzione definitiva nel testo fino adesso è scritto design quindi io potrei teoricamente trovare tutte le lettere con disegni senza però sapere cosa sono vabbè già lo dovrei vedere uno a uno certamente poi ricevono un commento quindi dopo per cui saranno anche indicizzati ma per io pensavo che tu ti riferissi solo alla alla visualizzazione la visualizzazione ce l'abbiamo grazie sì certo volevo sapere come li avevi se li avevi usati come li avevate trattati essendo un elemento diverso se applicavi una qualche descrizione iconografica o non lo so era una sì non ti ripeto non abbiamo ancora questo è un ce ne sono tanti no 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 non no ci sono alcuni autori ti ripeto ci sono alcuni autori che disegnano ci sono diversi autori che invece conoscendo la l'amore di Jacob Burkhardt per le fotografie perché lui aveva più o meno 10.000 fotografie che al suo tempo era una collezione notevole gli mandavano le fotografie di opere d'arte per cui nelle lettere troviamo queste e chiaramente fino adesso le abbiamo soltanto scansionate e anche quello sì sono elencati si trovano attraverso i metadati però il soggetto per esempio della fotografia ancora non l'abbiamo sì sono domande chi ce l'hai una domanda esiste c'è una edizione di città di comitato a 12 giorni no no dunque non so se l'hai a conoscenza che stiamo cioè faccio parte anche dell'edizione critica delle opere di Jacob Burkhardt si sta facendo un'edizione critica delle opere di Jacob Burkhardt ma è cartacea sono progettate 26 volumi il ciccerone è uscito come una delle prime opere chiaramente con un con un apparato apparato molto utile nel senso tutte le opere d'arte questo è uno dei criteri dell'edizione critica sono state aggiornate cioè l'ubicazione l'attribuzione tutto quanto però è cartaceo fino adesso perché le case editrici a suo tempo non non volevano nemmeno fare perché a suo tempo si parla degli anni fine anni 80 quando è partito il progetto non erano nemmeno disposti a fare delle cd niente però mi sembra se lei naviga il ciccerone si trova online perché una parte dell'edizione critica adesso si trova anche online altre domande